Il sole è allegria, porta gioia e energia, riscaldà le case e fa sbocciare tante rose. È un grande stella, luminosa e bella, se non lo vedi lui ce ti spiego. Anche il perché, lui sfrutta i pannelli solari per darci energia particolare, riscaldà le famiglie d'inverno e poi vorrei che fosse eterno. Non inquina il mondo e i bimbi fanno in grado di tutto il mondo. Grazie! Grazie a tutti.